jazz questa è vera musica jazz e questo è franco baggiani musicista di jazz ciao franco benvenuto allora buongiorno a questa intervista siamo nel bel parco di villa peco di girardia borgo san lorenzo perché lo ritengo appunto un parco adatto alla musica questo di villa pecori e soprattutto adatto alla musica la musica di qualità la musica jazz quindi franco baggiani è un nostro amico allora franco da tantissimi anni noi ti seguiamo sappiamo dei tuoi concerti delle tue produzioni anche discografiche delle scuole delle tante scuole dei tanti allievi che formi continuamente ma il jazz ci puoi spiegare per chi non conosce diciamo il jazz che cosa che cosa rappresenta e soprattutto che cosa rappresenta anche per te diciamo per me fondamentalmente rappresentato e rappresenta una scelta di vita che cos'è il jazz spiegarlo spiegarlo in poche parole praticamente impossibile perché è una forma d'arte che è nata dopo centinaia di anni di sviluppo del popolo afro americano negli stati uniti quindi si può spiegare male diciamo che perdono una battuta come su come si dice su pianista sull'oceano quando novecento dice se non sai che cos'è allora i jazz ecco bene con questa battuta diciamo diciamo così a disegnare perfettamente il contorno in cui muove e in cui si muove appunto la musica jazz ma allora tu ti sei diplomato nel 1988 direttamente con la tromba quindi sei proprio diplomato in tromba poi hai proseguito la carriera come direttore d'orchestra poi insegnante tante tante altre cose ma com'è che è nata questa tua passione la passione è nata perché in casa mia si ascoltava musica continuamente io sinceramente poi fra l'altro ho iniziato anche tardi perché ho iniziato a suonare a 19 anni quindi per un musicista è molto tardi perché quando io ho iniziato alcuni miei colleghi già suonavano da dieci anni mio padre era un grande appassionato di jazz ascoltava tantissimo dio kellington chet becker che è un besi di zighi lespi e quindi sono cresciuto diciamo questa musica che inizialmente neanche mi piaceva molto devo essere sincero ha iniziato a piacermi intorno ai 16 17 anni e poi va beh è diventata in qualche modo una ragione di vita quindi proprio la tua ragione di vita ma c'è anche diciamo qualche altro piccolo aneddoto che frugando tra le varie biografie soprattutto tra la tua biografia che il jazz appunto è stato diciamo l'arma con cui tu sei riuscito a esprimerti anche potevi scegliere qualche altra musica invece proprio il jazz è stato quello che ti ha permesso di formare proprio la tua cultura artistica beh in verità ho scelto anche altre musiche nel senso che ho fatto per tanti anni funk jazz funk ho avuto esperienze della musica elettronica ho avuto esperienze con la musica elettronica proprio attraverso i dj ho avuto esperienze della musica classica ho suonato anche ho fatto anche trombettista in orchestre classiche ho diretto le bande quindi la tradizione italiana ho diretto delle orchestre da camera quindi la tradizione però più diciamo verso la musica barocca ho avuto tantissime esperienze diciamo il jazz è sempre stato un po la stella polare però fondamentalmente sono sempre stato onnivoro perché credo che si debba sempre essere aperti a qualsiasi esperienza quindi da dal jazz poi ti sei aperto a tutte le altre forme artistiche musicali ma secondo te dato parlando ancora di jazz il jazz nel Mugello si ascolta jazz nel Mugello visto anche l'esperienza di che c'è in altri comuni insomma c'è il jazz club insomma ci sono varie esperienze e qual è la tua opinione in questo in questo senso ma il Mugello è sempre stata un territorio molto vivo e ricco sotto questo punto di vista Vicchio è un paese che ha creato un jazz club che funziona benissimo a un festival jazz ormai da tantissimi anni che sempre presenta un bellissimo programma a la fancoff che è la marching band io credo più famosa d'Europa è una delle marching band assolutamente migliori del mondo composta da vicchiesi quindi ma anche in altri paesi anche a San Piero a Sieve ci sono musicisti di jazz bravi penso ai sugelli ripeto ci sono Vicchio in particolare Vicchio insomma è storica per questo c'è anche una bella banda ha sempre avuto la banda e quindi di conseguenza tutt'ora la Vicchio folk band è attiva e con successo insomma Vicchio sicuramente è un esempio per il jazz però anche in altri paesi in altre diciamo località del Mugello quando vengono organizzati i concerti jazz e io personalmente li ho organizzati anche qui a Borgosa Lorenzo c'è sempre un bel pubblico il che significa c'è interesse c'è passione verso questa musica quindi allora il jazz comunque ribolle fa ribollire la passione musicale nel Mugello quindi da semplicemente da coloro che gli piace ascoltare il jazz un jazz comunque o comunque una musica una musica di qualità una musica buona passiamo a coloro che invece desiderano imparare imparare altrettanto musica buona quindi fare un percorso di scuola che gli possa permettere quantomeno se non la carriera professionistica comunque imparare a suonare e ad esprimere le proprie le proprie emozioni anche le scuole di musica ce ne sono molte nel Mugello insomma voi stessi tu hai fondato la sound la scuola di musica sound e quindi è presente in tanti paesi del Mugello che tipo di risposte ci sono? ma buone mi sembra molto buone perché innanzitutto dipende dalla proposta dal piano dell'offerta formativa che una scuola fa una scuola seria ha un piano dell'offerta formativa serio si rivolge ai cittadini soprattutto attraverso la qualità dei docenti la trasparenza di quello che offre e costi accessibili perché io credo che le scuole in quest'area debbano essere scuole di accesso alla musica scuole di diffusione di cultura musicale per poi far fare una strada agli allievi che può essere sia quella del dilettantismo e del lobby perché comunque la musica rende la vita migliore a prescindere o se no un percorso più professionale però innanzitutto credo che i cittadini apprezzino la trasparenza l'efficienza e la qualità del servizio che viene offerto poi il fatto che ci siano più o meno scuole di musica questo è relativo perché poi io credo che ogni attività venga considerata per come lavora per quello che offre e anche per la durata del suo servizio pensiamo al fatto che la sound è 30 anni che è sul territorio del Mugello ininterrottamente ininterrottamente sempre con successo questo io credo che a livello di qualità forse vorrà dire anche qualcosa sì e quindi immagino anche comunque la partecipazione del pubblico dei tanti ragazzi che partono sia da bambini fino da adulti le tue lezioni o comunque le lezioni dei tuoi docenti sono anche molto frequentate assolutamente sì 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 noi abbiamo siamo molto felici siamo felici dell'esperienza che abbiamo fatto come gestione delle scuole comunali di musica del Mugello perché questa esperienza ci ha fatto crescere molto ha dimostrato anche delle qualità credo che abbiamo espresso perché il numero degli allievi è aumentato anche del 70-80% in alcune sedi e adesso gestiamo la scuola di musica di Scarperia e San Piero in convenzione con il comune di Scarperia e San Piero abbiamo una scuola a Barberino che funziona benissimo a Borgo e San Lorenzo andiamo molto bene a Vicchio è storica ormai perché è dal 1991 che abbiamo la scuola a Vicchio dall'attività formativa comunque torniamo all'artista allora l'artista Franco Baggiani che è stato recentemente quindi inserito in una lista dei 100 compositori diciamo più importanti a livello nazionale e oltretutto poi svolgi attività quindi concerti, attività artistica in tutta Europa con puntate anche a livello internazionale ultimo il tuo ultimo brano è stato Preciso si chiama Preciso il titolo perché forse Preciso forse Preciso è perché il jazzista deve essere Preciso? no comunque in collaborazione con un artista spagnolo quindi ecco ci vuoi parlare poi non è detto che il jazzista debba essere per forza Preciso cioè diciamo Precisi devono essere gli esecutori quindi è uno simuro ma diciamo deve essere Preciso ma come dire nel jazz c'è come dire c'è una certa una piccola tolleranza ma c'è una tolleranza su certi aspetti perché se no non sarebbe più jazz sarebbe un'esecuzione accademica che è una cosa diversa ho capito quindi allora riprenderai a girare l'Europa con questo tuo album che ormai è uscito da qualche mese mi sembra no? da quasi un anno da quasi un anno e quindi inizierai a fare nuovi concerti e porterai comunque questa musica anche in giro per l'Europa? sì allora sicuramente sarò di nuovo il 6 dicembre in Spagna per il festival jazz di Beni Kassim Beni Kassim provincia di Castellon della Plana area valenziana di Valencia il 6 dicembre e poi ho alcuni contatti per due o tre festival importanti durante l'estate tra il Taranto Jazz Festival e altri festival che adesso non menziono perché le trattative le sono ancora presto per poter dire certi aspetti ma quando ti trovi anche con artisti comunque di levatura internazionale vedi trovata ai festival quanto è importante diciamo il tuo essere ora è un po' una domanda retorica però quanto è importante il tuo essere mugellano fiorentino toscano anche se comunque sei di Pontassie di Rufina anzi no io sono di Pontassie di Pontassie vivo a Rufina ecco vivo a Rufina ma sono di Pontassie e sono nato a Pelago fantastico ma diciamo che fondamentalmente questo non cambia molto le cose perché per esempio è capitato a volte di suonare in gruppi dove il batterista era tedesco il bassista spagnolo il chitarrista spagnolo la cantante americana il sassofonista svedese ma è verità il sassofonista svedese e io diciamo c'è una differenza la musica unisce la multiculturalità la musica unisce molto però poi quando ti ritrovi magari a tavola a cena e ovviamente c'è una differenza di carattere una differenza di spirito completamente diversa con gli spagnoli abbiamo un feeling particolare perché siamo simili non uguali ma simili ecco con gli americani bene perché gli americani insomma sono simpatici ecco gli svedesi io ho avuto due esperienze con due svedesi sono interessantissimi perché insomma sembriamo come dire esseri diversi ecco agli antipodi sì 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 loro parlano poco e bevono molto noi bevichiamo neanche tanto e si parla tanto bene allora come inette questa è una semplice chiacchierata appunto con Franco Baggiani un amico un amico di Ocranugello comunque un amico anche di tutti di tutti voi insomma che lo seguite che andate ai suoi corsi all'interno delle sue scuole e quindi quando che possiamo assistere ma io spero siano amici anche se non vengano ai corsi di me scuola sì certo ci mancherebbe però quanto tempo dobbiamo aspettare per poter vedere una tua performance qui casomai qui nel parco di Villa Pecori che è appunto un bel parco ma allora intanto io ne ho fatte due di fila in luglio 2018 e luglio 2019 quest'anno per il festival Museo in Musica che era organizzato all'Unione Montana dei Comuni del Mugello che ringrazio nell'occasione per l'opportunità che ci ha dato in questi anni in questo momento non ho niente di programmato per il Mugello la Val di Sieve non c'è niente di programmato vedremo cioè nel senso quindi allora invitiamo a mandare segnalazioni da parte di tutto il pubblico vogliamo vedere Franco Baggiani in una sua performance che adesso casomai un pochino ci fai sentire un po' il suono della tua musica salutando i nostri amici come on grazie a tutti